Ben trovati a questa nuova puntata di PolitiCaffè, in studio con me Antonio Mastrovincenzo, presidente del Consiglio regionale delle Marche. Ben trovato. Grazie, ben trovati a voi. Cominciamo a fare un breve bilancio della presidenza Mastrovincenzo, cosa è stato fatto e se c'è cosa poteva essere fatto meglio? Un bilancio molto positivo perché abbiamo approvato un paio di 200 provvedimenti di varia natura su vari settori, in particolar modo il sociale, l'ambiente, con una grande attenzione a queste due tematiche. Un bilancio anche positivo dal punto di vista dei risparmi, abbiamo risparmiato 4 milioni e 400 mila euro in questi anni come Consiglio regionale che poi sono stati reinvestiti a servizio della nostra comunità. Bilancio positivo anche per le tante iniziative che abbiamo fatto sul territorio e anche per le iniziative che abbiamo svolto in Consiglio regionale che hanno visto il coinvolgimento di migliaia di ragazzi, di giovani, delle scuole primarie e secondarie della nostra regione su tematiche varie, dalla legalità, alla costituzione, alla pace, all'ambiente. Quindi devo dire che sono molto soddisfatto. La sua presidenza ha affrontato comunque un periodo senza precedenti nella storia contemporanea, quello della pandemia da Covid-19. Secondo lei come è stata affrontata la pandemia da parte della regione? Noi abbiamo affrontato due grandi tragedie, quella del terremoto del 2016 e quella appunto della pandemia. Io credo che come regione Marche l'abbiamo affrontata bene, soprattutto nella fase emergenziale, ma anche adesso che stiamo uscendo dall'emergenza con provvedimenti che aiutano il rilancio dell'economia, il sostegno alle imprese, alle famiglie e quindi anche in questo caso il Consiglio regionale ha dato un contributo importante. Migliorare la sanità regionale è possibile dopo questa esperienza? È possibile dando attenzione soprattutto alla sanità territoriale. Devo dire che la rete ospedaliera ha risposto particolarmente bene e credo che anche da questo punto di vista il bilancio sia positivo, ci sono piccoli accorgimenti da migliorare, ma credo che la risposta sia stata netta e chiara. Allora, negli ultimi giorni, un paio di giorni fa, una protesta proprio sotto il Palazzo del Consiglio regionale da parte del Movimento 5 Stelle per la legge taglia terzi. Lei non era d'accordo, la legge è stata approvata, ma a partire dalla prossima legislatura vuole fare un commento su questo, poi parleremo anche delle prossime elezioni ovviamente. Non solo dal Movimento 5 Stelle, la protesta anche dalla sinistra e da tanti comitati cittadini. Credo che fosse una legge non corretta, inopportuna, tempisticamente sbagliata, temporalmente sbagliata e il mio è stato un voto negativo annunciato in aula, ma poi nel fatto il voto non c'è stato perché c'è stato un emendamento a cui abbiamo dato tutti il nostro appoggio, che sposta in avanti la riforma elettorale e permette di votare con le regole attuali. Ecco, cambiare le regole del gioco a poche settimane dal voto lo trovavo profondamente ingiusto e inopportuno. Credo che alla fine abbia provato il buonsenso e la correttezza istituzionale. Con la candidatura di Francesco Acquaroli è partita ufficialmente la campagna elettorale. Quali sono le sue considerazioni in merito? Io credo che abbiamo buone chance di recupero. I sondaggi ci danno in svantaggio al momento, ma c'è tutto il tempo per recuperare ulteriormente. Abbiamo già recuperato durante il periodo tragico del Covid perché la Regione Marche, come dicevamo prima, ha affrontato bene l'emergenza. Penso che abbiamo un candidato assolutamente all'altezza della situazione, Maurizio Mangialardi. Dall'altra parte abbiamo Acquaroli, che è un candidato molto spostato a destra. Quindi io credo che su questo potremo puntare durante la nostra campagna elettorale, puntando sui valori che caratterizzano fortemente il centro-sinistra, quindi le tematiche ambientali, sociali, del lavoro e che devono parlare alle persone soprattutto sul tema della giustizia sociale. Ecco, ritorniamo un po' alla domanda iniziale. Un bilancio della sua presidenza, alle sue spalle centinaia di foto che raccontano quello che ha fatto in questi anni. Qual è il ricordo più bello che ha? Io ho incontrato veramente tanta gente in questi anni, dal Presidente della Repubblica al Papa, sono stati incontri emozionantissimi. È evidente che ci sono alcuni incontri che ti segnano particolarmente. Intanto i tantissimi incontri che ho avuto con i giovani, lo dicevo prima. Poi tre persone soprattutto. Don Luigi Ciotti, che ho incontrato ripetutamente in questi anni. Dietro ci sono foto che riportano questi incontri. L'ho incontrato in varie iniziative e sa dare una carica incredibile ed è particolarmente amato dalla gente. Le altre due persone sono il padre e la madre di Giulio Reggeni. Le ho incontrati qui in Ancona, le ho incontrati a Torino. Due persone eccezionali da cui prendere esempio. Sicuramente torneremo a parlare di queste esperienze, torneremo a parlare di elezioni in compagnia di Antonio Mastrovincenzo, Presidente del Consiglio regionale delle Marche. Grazie per essere stato con noi. E a voi do appuntamento alla prossima puntata di Politic Caffè. Arrivederci.